Marzo Fabio Mallura porco dio Non c'ho più i poteri su T-Speak Perchè ho tro... Ho causato il... Come cazzo si chiama Oggi a quanto pare ci abbiamo da fare un horror Stasera grande horror Eh si ma l'ho detto io stavo dicendo pure Cioè io capita che mi spavento Per tipo i... I... Come cazzo si chiama I jumpscare Per quello può essere che mi spavento Però in realtà non ho paura Non sono uno molto pauroso Quindi in realtà bella cardio chill Allora Marzo noi abbiamo fatto la prima parte di questo gioco Che dovevamo scappare da una tizia Che voleva scoparti a tutti i costi Ma è bellissimo Adesso dobbiamo giocarci la seconda parte Che è contro una suora assassina Sono stato maranzato Sono stato maranzato Quando sono arrivati sono arrivati con la cassa Con... E' un allegante Sì con le... Con le ciabatte Senti Marzo puoi... Puoi farla tu la lobby nel caso? Sì Ah stai mi senti pronto porco dio Sì 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 Che si sente? Ok me posso mutare allora Eh ma Wannio ma vi sento bassissimo C'ho tutto al massimo Ma non vi sento proprio C'è proprio basso Abbasso un po' il volume Marzo Abbasso un po' il volume Ma se lo abbasso si sente di meno Così vi sento piano V'ho detto Ok allora Marzo Tutto quello che vedi a sinistra Io sento un botter maestro E' un po' il maestro Vieni da apri sta cazzo di porta Ma io sento tutto cracchiante Ragazzi c'è una roba incredibile Praticamente ho cambiato i tasti Qua mi dice F per aprire la porta Ma in realtà è E Quindi vuol dire che a me se sono invertiti E E F E sarà un macer Che puoi salire nel mentre almeno Ma io sono piede Sono qua Sono qui Sono qui No no Cioè dice che un Necessitiamo di un ultimo giocatore Per aprire la porta Fate tutti F Oh maiali Oh Marco Dio Ragazzi ma Molta acido Non mi fa cagare in mano Ma sì ma Ma l'avete sentito Ho sentito pure io Sì no Ho sentito pure io Allora ok Sì Puttana troia Ma regà ma non si può andare da nessuna parte tipo Ragazzata Allora quindi c'è ricerca La stella di David Ah la stella di David Sì Dove ha trovata Ragazzi qua c'è una roba che fa un rumore Dove maestro? Qua di frate di me fa tipo Mi Maresa del cazzo Guarda che ti sento coglione C'è il bottone premuto Una pozione Ho trovato il kit medico Qua c'è una botola One new Come dove c'è sta una botola? Dammi una botola Tu sei vicino a me qua dentro Sembrata subito una botola Sembra pulita Mi sembra sgravata Sembra colosa Mi sa che siamo tornati dove stavamo prima però Vabbè però stavamo apri tutte scorciatroie Marzo Guarda che è 1000X Aspetta Marzo perché noi tiriamo dritti Ma ragazzo è in cantina Veramente? Mi devo far piria Ma venite dove? Ma come fai? Come fai a trovare sempre tutti? Eccolo Gianchino Venite Vanio mi sa che sono morto Ma dove? Non puoi essere morto No no morto non sono però mi ha preso una cosa Qui qui ragazzi è un buco nel pavimento Ci stiamo io e Gianchino Ma sono io Ma a me mi ha preso A me mi ha preso la strega Ma è un maschio Come t'ha preso la strega? Sì sì Mi è spavolata C'è un cazzo io sul naso tipo Ma che cazzo è? Cicciolina porto addio Ma non Regà dobbiamo ritrovare il crocifisso adesso Ma stai figura che è senza stanza Gianchis Come no? Il crocifisso com'è? Tutto d'oro E tutto giallo E sembra una collana di Nicopandetta Sembra Ma lo è Cioè E andiamo di qua che ci stanno pieno di porte Ah ragazzi Mi ha preso uno con una ciola sul naso Ma che fai? Ma se te li becchi tutti te Ma sei scemo Ecco il crocifritto La trovate? Che cazzo Ho preso Ho preso Questa Ragazzi c'è quello con il cazzo sul naso Ma dove lo vedi? Il tipo con il cazzo sul naso Ma dove lo vedi? Eccolo Che succede? Che succede? Non lo so Ma è una bambina? Che avete toccato? Niente No è la nonna È la nonna È la nonna O sono pure tre No 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 Via 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 O W Chiudete la porta Qualcuno va a chiudere la porta Adrò Non c'è la porta Gianchino Ragazzi ma questo è Fabio che fa sto rumore o è una ragazzina? Non credo sia la ragazzina Ragazzina avrebbe fatto Oh maestro No 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 Regà 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 No io non voglio farmi prendere No 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 vi prego vi prego vi prego vi prego vi prego Ma è stato segno Difendimi Mi chiedi la porta in faccia Dio cane Ma siete uomini proprio di merda No raga adesso arriva adesso arriva eh Drogo Ma hai detto di quelli che stava giù giù Ho fatto io Hai parlato di qua Non pari la sentita L'ha ripreso Che cazzo era? C'è là l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato L'ho trovato il corano Stava qui Ecco la bibbia Ma che cazzo è? C'è la tua razza qua La tua razza? Mi ha preso Mi ha preso Gianchi mi sono caccato sotto Ma Niu c'è uno che fa i bocchini Porta magica di livello 1 raga Vai mollo vai Ragazzi ma la torcia cura Porco Dio Ha ripreso Fabio Ma io volevo le bambine non le nonne porco Dio L'ho fatto centro Ehi bambino Ehi nano qualcosa Ehi nano con il cazzo 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 Ragazzi c'è uno che fa i bocchini No eh parco Dio Che cosa è successo? Eh quello con il cazzetto Ma tu l'hai vista la bambina ma zò? Raga No 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 Chi è questo che ha avuto lo spasmo con il mouse? Aiuto Ma come lo sai? Dove mi sta portando? Ragazzi Strugo Riccola La tre lo so la tre sta giù One new la tre sta giù Dove 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 dove? Oh bravi che l'avete trovata Ma possibile che non c'è Bravo Serve accendere l'incenzi Mi sono caccato addosso Mi ha dato un Ma ha fatto un grido Alucinato Fabio che rischio eh Lo dico io? Lo dici tu Marzò Porco Dio Godo Non mi hanno preso Gianco estremo Però dobbiamo prendere l'incenzi Vano i undici Sono facili Li sto accendendo Gianchi Eh no Regla Porco Dio Non apre Non apre Non si apre Ragazzi ma perché abbiamo quittato? Ma forse non dovevamo uscire Non dovevamo quittare Ragazzi ma che cazzo era L'arma antincendio Ma che cazzo uscite a fare? È perché eravamo vicini alla fine Ragazzi 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 Abbiamo Ma dobbiamo rifare tutto Ragazzi abbiamo Il pane al zoccolato Che fa? Sborrando Nell'impasto Ogni giorno Ma perché Inginio Ma stava Scusami Inginio Ma come mai Li sborri dentro? È la cosa che mi piace di più Dopo sborrare dentro Mia figlia La smetti Oh che cazzo vuole Tu cosa che grida? No per voi non credo Spero di non L'ho trovata io Inginio Massari Il pasticcere Più forte Di Bressa In realtà del mondo Comunque Ragazzi è successo Il cazzo Dio Dio Cane Mi ha fatto il jump No Nuovo Uccello No Ho paura Ho paura Laga Sta puttana Troia Se rispauna fuori Ricordi il cazzo Che me nascondo Accendete i cerini Presto Bro sto appicciando tutto Ma sto Andando Sto andando Sto Qua poco manca 15 Raga ma Ma tu li cazzo Ne trovate Tutti sti ceri Bro ma sono Sono Lincenzo Maker Tua madre Troia E' uscita Salvate Mollu Ragazzi Io sono bloccato Non mi posso più muovere Ragazzi Mi sa che ha preso Gianmarco Mi siamo in sicuro Ma Ne manca uno Non si sente Una sega Cristo Mi falluto Porto Dio Non mi hanno il nasone Ragazzi Stiamo allo start Stiamo Salvatore Guardi 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 Ecco L'ho trovato L'ho trovato Guardi Io sto da solo L'ho trovato Sì Non sono fatto L'ho fatto Io non ho Mere Che non lo posso Rialzare Regà Non lo posso Rialzare Manco Io Oh Cristo Saluti Gai Io Ragazzi Possego La c'ola Non è successo Solo a me Vero Non ci voglio Non ci Abbiamo preso il cazzo Toccherà Fini L'abbiamo Ci un certo duro Ciao